Oggi siamo a Ceprano per una nuova tappa del reality shop di Bricofer, il reality shop che vi consentirà di fare un viaggio all'interno del mondo del bricolage. Io sono Davidia e adesso passiamo la linea a Luigi. Vai Luigi! Continua il reality shop di Bricofer da Ceprano in provincia di Frosinone, ma prima di incontrare la prossima coppia vediamo la loro scheda. Lucia Andreossi, 33 anni, operatrice sociale, Ceprano. Massimiliano Carlini, 40 anni, geometra, Ceprano. Eccoci qua con la nostra coppia, giusto? Dico bene? Sì. Da quanto tempo siete sposati? Sette anni. Ah, ti ricordi, l'ha appena detto. Va bene, passiamo alla fase 1. Eccoci, è arrivato in un momento importante, la scelta della busta. Chi fa le scelte in famiglia? Lei. Tu fai le scelte? Ok, chiamiamo la nostra Davidia e vediamo. Prova 1 o prova 2? 2. Prova 2. Io non so, prova 1. Ma siamo ancora in tempo per cambiare. Dai, non litigate. Su, prova 1 o prova 2? 2. 2? Decida moglie, dai, va bene. Ok, passiamo alla fase 2. Ok. Eccoci, è arrivati al momento dell'apertura della busta. Adesso avete 2 minuti di tempo, da quando ve lo dirò, per aprirla e scoprire che cosa dovrete costruire in soli 20 minuti. Avete 15 minuti per fare la spesa e acquistare tutti gli oggetti necessari. Siete pronti? Sì? 3, 2, 1, via! Prova una costruzione di una libreria lunga 120 cm con tre ganci reggimenzo da verniciare esternamente con pennello, utilizzando un impregnante color vengè ed interamente con bomboletta spray di un colore a scelta. 3, 2, 1, dentro ragazzi, correre! Correre, correre! Vogliamo vedervi correre! 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 dai non perdere tempo brava io dietro il compensato quanti hanno speso? ragazzi siete stati veramente bravissimi 34,94 euro ottimo fase 3 3, 2, 1 via, 20 minuti ora devi leggere semplicemente vi ricordo che potete votare i nostri concorrenti sul sito www.bricofer.it nella sezione vota e vinci come sta andando? abbastanza bene Lucia 5, 4, 3, 2, 1, 0 ottimo fase 4 ok il miglior risultato con il minimo sforzo economico in un'Italia che è in crisi questo è il massimo votandici votandici ok abbiamo appena concluso questa prova con i nostri simpatici concorrenti da Luigi e da Vidia vi diamo appuntamento alla prossima coppia ciao ciao